Questo nuovo video sull'utilizzo del tornio è chiaramente per gli amanti del tornio, ma anche e soprattutto per gli amanti della birra. Salute! Ma è vuoto! In questo video andremo a creare tre forme diverse per tre bicchieri di birra diversi e lo faremo come al solito sul nostro tornio super economico e come al solito vi lascio in descrizione il link per acquistarlo. Avviciniamoci e mettiamoci al lavoro. Salute! Ma è vuoto pure questo. Allora, la nostra prima forma sarà un boccale. Allora, io ho già centrato l'argilla, adesso la vado ad aprire e creiamo un fondo di più o meno 7-8 mm, poco meno di un centimetro. Possiamo andare, vedete, piano, il tornio sta girando piano, e allargo e tiro verso di me, dal centro, mettendo questo dito, il dito medio, dal centro verso l'esterno, in questo caso verso di me. Questo boccale avrà la parte del fondo più larga e il collo, la parte di sopra più stretta, quindi sarà, diciamo, una forma abbastanza facile. Facciamo la conicizzazione, richiudiamola per poi sollevare le pareti. Allora, io mi appoggio con questa parte qui, spingo verso il centro, la mano destra contiene, aiuta, e spingo finché non raggiungo questo cono qui. Posso anche spingere un altro pochino, soprattutto sul bordo, conicizzare un altro poco, vedete, in questo modo, sempre alla stessa velocità. Faccio un piccolo piedino col pollice sotto, alla base dell'argilla, metto le mani, posizione a pinza, stringo le dita. Non abbiate paura di stringere in questa fase, perché c'è molta argilla sotto, quindi dobbiamo portare questa argilla dal basso verso l'alto. La prima volta richiudiamo un pochino, stringiamo, strozziamo l'argilla, anche in questo modo qui può andar bene, rifacciamo un piedino, inumidiamo, controlliamo la base, quindi portiamo l'argilla dal centro verso l'esterno, e adesso fermiamoci qui, spingiamo e tiriamo su. Le due mani vanno all'unisono, vedete? Vanno piano piano verso l'alto. Al bordo ricordiamoci di lasciare un poco più di argilla. Unicizziamo un pochino, in questo momento sto usando la mano destra in questa posizione, la mano sinistra accoglie l'argilla, tutte e due salgono verso l'alto e chiudono. Ora in quest'ultima, diciamo, salita, spingiamo un po' più verso l'esterno per muovere la nostra argilla sul fondo verso l'esterno, e mentre saliamo, ricordiamoci di spingere verso l'interno, in modo da creare questa forma a cono. stringiamo un po' di più e chiudiamo un poco. Togliamo un po' di barbottina, anche dall'interno. Con la stecca ci aiutiamo e diamo una prima forma a questo boccale, tenendo la stecca piegata in diagonale, in questo modo qui, stringiamo un poco la parte superiore, inumidiamo un poco solo la parte esterna con un poco d'acqua per creare due curvature, una alla base, le dita in questo modo spingono e un dito di dentro dall'interno spinge verso le due dita esterne che formano questa gobetta, una qui e una qui più in alto, in questo modo qui. abbassiamo la velocità del tornio e le voglio far diventare un po' spigolose, quindi non rotonde. Quindi mi aiuto dal basso e dall'alto con la spatola. Qui rendo omogeneo, chiudo questa parte e faccio la stessa cosa su questa gobetta. Posiziono la mia stecca in questo modo qui. Spingo un pochino in modo da renderla spigolosa. Con la stecchietta accentuo il piede di sotto, quindi spingo in questo modo qui, solo appoggiando la stecca e spingendo qui. adesso rallento ulteriormente il tornio e con la mia spatolina saghiettata vado a dargli delle decorazioni. Una qui sul bordo e una qui in basso. Rifinisco qui il bordo superiore. una volta che si sarà asciugato un pochino andrò a incollare il manico. Prendo il filo, tagliamo un paio di volte e voilà, il nostro boccale è finito. Allora, per questa seconda forma faremo un bicchiere per delle birre in stile in stile vice. Quindi, che facciamo? Siccome deve essere un po' più alto e stretto, centriamo non troppo basso, lo centriamo così in questa altezza e adesso che affonderemo per l'apertura non scendiamo fino al fondo ma ci fermiamo più o meno a questa altezza qui. Quindi, procediamo. Col pollice spingo verso il basso, mi fermo, apro poco poco verso l'esterno quindi spingo il pollice verso l'esterno questo della mano destra e la mano sinistra contiene. Guardate, va andando piano piano possiamo anche togliere quindi io sto spingendo e adesso iniziamo a sollevare le pareti da questo punto qui. Quindi, stringiamo e solleviamo. Vedete, il tornio sta andando piano piano non c'è bisogno di andare veloci. Noi andremo lentamente con calma. Come al solito al bordo lasciamo un poco più di spessore. Conicizziamo un poco riportiamo verso l'interno qui iniziamo a dargli una forma voglio lasciare quindi appunto come avevo detto lo spazio per un piedino quindi spingo col dito qui è dove arriva la base del fondo del mio bicchiere spingo un altro poco inumidisco e porto verso l'alto quanta più argilla possibile anche perché non è detto che le mie mani dopo riescano a raggiungere quella profondità in questo modo. lasciandone sempre un po' di più al bordo richiudo la mia forma la stringo un pochino in questo modo qui partendo dalla base stringo e spingo la nocca della mano destra verso il centro in questo modo qui e salgo fino al bordo piano piano qui accentuo spingendo verso l'interno e stringendo con la mano sinistra quello che sarà il piede in questo modo in questo modo anche posso partire un po' dal basso faccio stringo un pochino vedete iniziato a creare questa forma qui ora inumidisco inserisco tutta la mano e dal fondo qui allargo prima un poco verso tirando verso di me e qui salgo per adesso dritto trascino ancora l'argilla in eccesso dal fondo verso l'alto in questo modo qui chiudo poco poco controllo il bordo lo assottiglio un poco e adesso sono pronto con la spatola a dargli una forma lievemente svasata quindi appoggio la mia spatola l'appoggio al fondo e spingo l'argilla verso la spatola darò sia una forma e sia toglierò un poco di barbottina in questo modo tolgo un po' di argilla e di barbottina scusate un po' di barbottina qui sul fondo partendo dal basso partendo quasi dal fondo accentuo un pochino la scala natura verso l'interno stringendo con le dita piano 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 delicatamente le ultime operazioni vado a fare un piedino qui sul fondo siccome vedo che è un po' sproporzionato diciamo questa parte è troppo è troppo larga rispetto al bicchiere la prima la appiattisco un poco e poi con la spatola la tolgo adesso o con la spatola o col dito posso decidere anche di magari effettuare un decoro sul piede in questo caso spingo un poco pulisco arrotondo il bordo il bordo tolgo la barbottina in eccesso e effetto l'ultimo piedino qui tolgo un po' di argilla per staccare meglio il bicchiere asciugo le mani e con il filo come al solito vado a staccare il bicchiere con un paio e vedete anche questo bicchiere è stato realizzato allora anche per questa terza forma facciamo una centratura un po' più alta però il corpo sarà completamente diverso sarà un corpo rotondeggiante per bere per esempio le birre in stile belga quindi già col mignolo spingo per creare una rientranza lì dove sarà il mio il mio piedino più o meno con il pollice a fondo per creare la mia apertura non vado fino al fondo chiaramente porto anche verso l'esterno quindi apro un pochino il mignolo invece fa una controspinta verso l'interno per mantenere la base e per la scalanatura del piedino quindi partendo dal fondo diciamo partendo da qui da dove inizierà il fondo del bicchiere spingo un poco verso l'interno con la mano destra la mano sinistra invece dall'interno spingo un poco verso l'esterno e intanto faccio salire stringendo tutte e due l'argilla verso l'alto appiattisco la base se ce n'è bisogno richiudo un poco verso l'interno e rifaccio la stessa cosa qui spingo un poco verso l'interno adesso spingo l'argilla verso il dito questo dito qui per dargli una forma lo spingo verso l'esterno questa parte con un lieve movimento a c porto l'argilla dal basso verso l'alto e gli do questa prima curvatura adesso in questo momento accentuo la scala natura quello che sarà il mio piedino diciamo ok in questo modo e diciamo che non lo andrò più a toccare e adesso lavoro sulla parte superiore quindi la base la spingo verso questo dito che è in diagonale fino al punto che desidero e adesso da qui porto la mia argilla verso l'alto così stringo un poco tolgo un poco d'acqua in eccesso dall'interno inizio la mia vera curvatura quindi vado un po' più verso l'esterno qui mi fermo rientro verso l'interno per poi svasare un pochino qui al bordo in questo modo qui lo faccio per l'ultima volta qui sistemo la base inizio a svasare qui un altro pochino qui mi fermo e quindi verso il bordo spingo verso l'esterno comprimo un po' quel bordo adesso con la spatolina vado a togliere l'argilla in eccesso qui sul lato la barbottina con lo stecchietto vado a rifinire il mio bordo il mio piedino in questo modo qui rifinisco questa parte la voglio un po' più svasata e qui un po' più verso l'interno quindi un po' più chiusa e tolgo la barbottina in eccesso arrotondo il bordo ultimo piedino quindi fermo il tornio come al solito col filo un paio di tagli uno e due facciamone tre e anche questa forma è terminata